Il Movimento 5 Stelle di Sassano ha inoltrato un'interpellanza a risposta scritta al sindaco e all'assessore all'ambiente del comune di Sassano, dopo che la cooperativa, cui il comune ha affidato la pulizia delle strade ed aree pubbliche, è stata sorpresa, si legge nell'interpellanza, a ripulire gli spazi di un'area commerciale privata in orari in cui solitamente è al servizio del comune. L'attività della cooperativa, remunerata con risorse pubbliche, si legge ancora nell'interpellanza, dovrebbe essere esclusivamente indirizzata a compiti di servizio pubblico. Nell'interpellanza, inoltre, i 5 Stelle di Sassano sostengono che la cooperativa in questione ha utilizzato per effettuare i lavori nell'area privata mezzi comunali, con i quali ha sversato inoltre il materiale raccolto sempre in un'area di proprietà del comune. Il Movimento 5 Stelle nei prossimi giorni conclude il documento di fronte al persistente silenzio dell'amministrazione, non esiterà a mettere informazioni e documenti a disposizione delle autorità per quanto di competenza. Ma arriva subito la risposta del sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione. Il sindaco Pellegrino ha chiarito, In merito a quanto scritto nell'interpellanza ho chiesto in modo formale delucidazioni alla cooperativa. Dalla cooperativa mi è stato spiegato che quel lavoro era stato svolto presso un'area privata in orario extra lavorativo, ossia non nell'orario stabilito nella convenzione tra il comune di Sassano e la cooperativa stessa. Per quanto concerne il presunto utilizzo di mezzi comunali e lo sversamento di quanto raccolto nell'area privata, nell'area confinante, meglio conosciuta come boschetto paleo palustre, posta in passato sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, come scritto proprio nell'interpellanza, ed utilizzata per la discarica di materiali residui dello spazzamento di strade, piazze, giardini, rifiuti cimiteriali, il sindaco Pellegrino chiarisce ancora che se queste azioni rispondono alla verità, toccherà alle autorità competenti procedere, fermo restando che laddove siano state seguite sono episodi non collegabili alla sua amministrazione.